Sì, 4, 6, 2, sì. No, non avevo niente. Ok, sai. Ok. Dobbiamo andare a seguire. Ok. Luigi, sei già trezzato? Siamo. 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 Bellissima. Ecco che arriva l'Antonio, Luigi. Carluccio. Ok, Franci. Andiamo giù su di qua, eh. No, andiamo giù per la crisi. No, andiamo giù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.